Eccoci a capitolo, preferisco in assoluto, argomento più importante per me, come sanno tutti quelli che mi conoscono, io praticamente da molti anni suono quasi esclusivamente basso fretless, tranne rare eccezioni, rare contesti musicali, perché trovo che col basso fretless, almeno per quanto mi riguarda, posso avere un linguaggio, un'espressività molto più ampia rispetto a un basso con i tasti. Allora, per ora ho il basso con i tasti, proprio perché vorrei mostrarvi in modo più veloce e più semplice possibile, qual è la differenza principale tra questi due strumenti. Quando fu inventato il primo basso elettrico nel 1951, per molti contrabbassisti dell'epoca fu una vera rivoluzione, perché prima di tutto non erano più obbligati a portarsi dietro il malloppone del contrabbasso tutte le volte. Il secondo, e questo quindi anche eliminava un po' i problemi di amplificazione, eccetera, il secondo non avevano più, diciamo, non era più richiesta un'intonazione impeccabile, in quanto appunto con il basso o con i tasti semplicemente bastava, diciamo, non era tutto corretto, comunque premere la nota nello spazio tra una barretta e l'altra e questa esce, usciva e esce intonata. Questo, da un lato, appunto, ha semplificato moltissimo la vita dei bassisti e l'esecuzione di questo strumento. Da un altro lato, però, ha tolto tutti quei colori, quelli abbellimenti, anche se non è del tutto corretto nemmeno questo, che invece si hanno con il basso fretes, o comunque con tutti gli strumenti privi di tasti. Il basso con i tasti è diviso praticamente in semitoni, quindi se io passo dal re a re diesis, mi bemolle, ci passo in modo non graduale, ma diretto, cioè io da, considerando la corda intonata, ho un re intonato sul quinto tasto della corda la, e mi bemolle intonato sul sesto tasto della corda di la. e non ho tutti i decimi di tono, i decimali, che intercorrono tra una nota e l'altra. Questo appunto perché si può solo saltare di semitono a semitono. L'unico modo, quindi, per cambiare l'altezza di una nota entro il semitono è il cosiddetto vibrato, ma il vibrato verticale, meglio conosciuto da chitarristi come banding, che sarebbe questo. Questo si dice vibrato verticale perché io, premendo la corda e alzandola in modo appunto verticale, vado a modificare il pitch della nota, quindi l'altezza, a seconda di, più o meno a seconda di quanto alzo o abbasso la corda. Questo è l'unico modo che ho per, appunto, per cambiare l'intonazione di una nota entro il semitono. Passo ora al fretless e vediamo invece quali altri modi ho e quali altri colori si possono ottenere con un basso senza tasti. Eccoci quindi al basso fretless. Mi piacerebbe molto approfondire nei dettagli questo argomento, ma farò poi altri video, comunque dei corsi gratuiti che metterò su YouTube o sul mio sito. In questo video cercherò quindi di riassumere il più possibile, tornando al discorso della variazione dell'altezza di una nota entro il semitono, col basso fretless, oltre al vibrato che abbiamo visto prima, verticale, io posso eseguire il più famoso e più utilizzato vibrato orizzontale, tanto caro e tanto conosciuto quando si pensa ad esempio ai violinisti, ai violisti, eccetera. Ovvero quel movimento più o meno rapido, in senso questa volta orizzontale del dito, della mano sinistra, lungo la tastiera. Questo fa sì che l'orecchio percepisce questa variazione di intonazione che dà una sfumatura, un colore molto particolare a quello che stiamo eseguendo. Faccio un esempio per farvi capire uno dei milioni di esempi che potrei fare, ma restando in tema giaco, vi faccio una melodia che sicuramente conoscete, prima senza il vibrato e conoscete. conoscete. è un po' esagerato per farvi capire comunque il colore della frase cambia totalmente ci sono molti modi, molte tecniche diverse per eseguire il vibrato tant'è vero che gli strumentisti classici, porto sempre esempio dei violinisti passano i veri e propri anni per studiare correttamente tutte le tecniche per i diversi tipi di vibrato c'è il vibrato più largo, il vibrato stretto, il vibrato di polso, il vibrato di avambraccio nessuno di questi, contrariamente a quanto ho letto anche recentemente su molti metodi musicali nessuno di questi è sbagliato, ma si può dire che alcuni funzionano più in un certo contesto rispetto ad altri. Consiglio sempre di approcciarsi al vibrato dopo essere arrivati ad avere una buona intonazione sullo strumento fretless. Proprio a proposito di intonazione il consiglio che vi do, non è assolutamente obbligatorio, è quello di cercare di guardare il meno possibile la tastiera, ma di utilizzare molto l'orecchio e le posizioni. Cosa vuol dire questo? Pensate appunto un violinista che sta leggendo uno spartito nell'orchestra in musica classica se si mettesse a guardare dove ho già le dita, sarebbe assurdo, sarebbe un po' come faccio io normalmente quando leggo uno spartito che dopo due secondi mi perdo. Quindi è ovvio che non la guardano la tastiera, addirittura anche quando fanno dei salti molto ampi, nonostante abbiano una tastiera più ridotta, assolutamente lo fanno con degli automatismi che hanno appunto sviluppato con anni di studio. Quindi io fortunatamente quando iniziai a suonare il basso fretless, il mio insegnante dell'epoca, quindi una ventina abbondante di anni fa, mi disse proprio, mi fece notare proprio il discorso della lettura e mi disse che lui suonando un'orchestra, non ricordo, comunque suonando delle parti scritte, quando suonava il fretless si trovava in difficoltà perché aveva sempre studiato comunque con dei riferimenti visivi, quindi o portava il basso con i tasti o era un casino. E mi disse, cerca di partire subito con un basso privo di segni, di linee, eccetera, e basati appunto sull'orecchio e fai tanta pratica con le posizioni. Infatti il mio primo basso basso fretless fu un bellissimo corte a tastiera completamente cieca e lì mi sono fatto un po' il mazzo, diciamo, dello studio del basso fretless. Le posizioni cosa si intende? diciamo che, per come la vedo io, dividendo la nostra tastiera in varie parti, in varie, quindi, posizioni, partendo da una nota, io devo crearmi delle diteggiature e delle posizioni, degli allargamenti che diventino poi automatiche senza dover guardare la tastiera. Questo si fa suonando in tutte le parti della tastiera, scale, arpeggi, frasi e quant'altro. All'inizio è automatico a stonare perché ovviamente non siamo abituati, però rispetto ad esempio ad un violino, una viola, il nostro strumento fortunatamente ha una tastiera abbastanza importante, abbastanza lunga e questo ci aiuta un po' perché nel violino basta veramente non un millimetro, un decimo di millimetro per stonare in modo clamoroso, mentre noi comunque, per far sentire una nota calante o eccedente, insomma, dobbiamo sbagliare di un pochino appena di più. Quindi tanta pratica, questo è il mio modo di vedere, ci sono anche tantissimi bassisti, ho sentito anche recentemente delle interviste, porto esempio, mi viene in mente Pino Palladino, comunque molti altri del livello, appunto il livello altissimo di bassisti che non nascondono, che invece non è che si affidano totalmente ai riferimenti visivi, però si aiutano in qualche modo, questo è del tutto facoltativo e del tutto, cioè ognuno è libero di studiare come preferisce e come meglio crede. Io vi do solo delle dritte e tornando a Jaco, lui nell'intervista del Modern Electric Bass afferma che comunque quando tolse i tasti dal basso, ovviamente gli rimase i segni dovuti al riempimento con lo studio, eccetera, e lui si aiutava anche a suonare con questi riferimenti qui, quindi a suonare nei punti giusti con le linee. In realtà se voi osservate bene Jaco nei suoi live, nei concerti, eccetera, si vede chiaramente che lui suonava intonato anche quando guardava da altre parti, sempre, quindi sono convinto che, a parte le sue doti naturali da alieno, sono convinto che lui avesse comunque affrontato il discorso intonazione studiando appunto senza guardare la tastiera. Altra cosa, tutti gli abbellimenti che possiamo eseguire sul basso fretless in realtà sono eseguibili anche sul basso con i tasti, come vi dicevo prima che è vibrato, ma l'effetto sarà totalmente diverso, un altro abbellimento che è impossibile non utilizzare su un basso fretless è il glissato o glissando o slide, chiamatelo un po' come vi pare, perché appunto nel basso con i tasti se io parto da un sol e scivolo fino a un si non sento tutti i decimi di tono che sento con basso fretless, ma avrò una partenza da sol, un arrivo da si passando per i semitoni, non per i quarti di tono, eccetera. Lo slide semplicemente appunto è una tecnica che consiste nel partire da una nota e arrivare a un'altra distante quanto vogliamo scivolando lungo la tastiera. Rifaccio l'esempio di prima con un'essenza glissato. E ora facciamo con... Sentite che anche qui le sfumature e l'effetto è completamente diverso. Non mi ricordo più cos'altro volevo dirvi, perché come avevo premesso la mia memoria è molto corta, ma ecco, un'altra cosa sicuramente che va detta è che un'altra tecnica usata dal nostro giaco era l'uso delle quinte, ovvero, se ci fate caso in molti brani, come ho scritto nel libro, lui utilizzava questa tecnica, che dava un effetto molto, personalmente molto bello, comunque molto forte, che era questo. Quindi la quinta suonata con una specie di arpeggio, ma semplicemente parto dalla nota a corda sotto e subito vado a suonare l'altra, quindi è un arpeggio molto, molto veloce. Si ha questo effetto molto caratteristico. Intanto troverete tutto nei prossimi esempi. Si partirà dagli esercizi proprio base, quindi chi si approccia per la prima volta a basso freddo e sa modo di esercitarsi proprio sulle basi dell'intonazione, quindi nota premuta, nota e corda a vuoto relativa, quinta, quinte, ottave, eccetera, eccetera, intervalli e quant'altro. Sempre cercando di guardare il meno possibile la tastiera. Poi gli esercizi andranno gradualmente ad aumentare di difficoltà. Comunque, per qualsiasi domanda, informazione e per chi volesse anche approfondire lo studio del Basso Freddo, vi aspetto sul canale YouTube o comunque contattatemi tranquillamente. Per ora è tutto e vi aspetto al prossimo capitolo.